buonasera amici radio montecolo web benvenuti stasera andiamo in onda in forma un po particolare perché per motivi di impegni vari visto anche se vicino al ponte dell'immacolata non siamo riusciti ad andare live ma l'impegno c'è tutto buonasera amici e buonasera agli amici che sono qui con me stasera ciao ragazzi salve salve a tutti i nostri ascoltatori buonasera buonasera a tutti buonasera buonasera a tutti e bentrovati sera venanzio buonasera a tutti bentrovati ragazzi come sempre nella prima parte di trasmissione diamo spazio alle nostre due squadre locali prima categoria la sd e la vigor con i contributi di david e nel nostro caro giacomo vai ragazzi ciao a tutti buonasera ciao per quanto riguarda la partita di sabato la vigor monte cosa l'ho affrontato la settembre e per dire la verità è stato un doppio doppio confronto sia mercoledì sera in coppa marchi giocata a potenza piccina e vinta per 4 a 0 per la vigor monte cosolo che anche se la stanza e verino era con tanti ragazzi la vigor ha disputato un'ottima partita e ha vinto per 4 a 0 e ha passato alle fasi semifinali della coppa marchi che poi giocheremo in marzo per quanto riguarda invece la partita di sabato è stata una partita tosta perché il sanseverino metteva in campo tutti i loro migliori giocatori nomi nomi importanti però voglio dire che anche noi siamo andati su con quell'idea che ha inculcato il mister tutta la settimana il mister piero antonio inculcato di andare su a prendere i tre punti quello è stato fondamentale perché quasi ci credeva tutto il gruppo e tutti i ragazzi anche la società anche se era un'impresa e ci siamo riusciti è stata una bellissima partita subito siamo passati in vantaggio con marco tulli che al decimo del primo tempo su bellissimo assist di bernabè piazzava la palla in rete anticipando il difensore più o meno sul dischetto di rigore però vedeva che poi i locali iniziavano a giocare la palla e ci ha schiacciato un po dentro l'aria e abbiamo avuto però un'altra bellissima occasione nel finale del primo tempo con bernabè mi sembra un tiro andato poco fuori il secondo tempo iniziava cambiava qualcosa la settembre dal livello tattico e però noi stavamo bene anche fisicamente il secondo tempo stato diverso ci aspettavamo di soffrire di più invece siamo riusciti a venirne fuori siamo riusciti a trovare il raddoppio al diciassettesimo sempre con marco tulli su una disattenzione della difesa della della settembre che il difensore centrale dalla palla portiere dietro ma un po corta portiere arriva tardi c'è un contrasto con con tulli che alla meglio tulli che rimane la palla sui piedi e riesce comodamente a metterla in porta per il 2 a 0 quindi doppietta poi c'è da segnare che al trentasettesimo arriva sempre su assist di tulli andato via sulla fascia è una bellissima palla centrale per l'inserimento di partolini anch'esso uno dei migliori in campo che chiude la partita sul 3 a 0 una partita che ci dà molto morale perché avevamo perso in casa la settimana prima con il monte cassiano per 4 a 1 quindi era bene risollevarci e ribaltare subito la situazione e così è stato quindi è stata una bella prova di forza adesso ci aspetta la passatempese in casa squadra ostica che è scesa dalla promozione molto fisica e sarà anche quella una partita tosta anche perché come dico dall'inizio del del campionato e immaginavo che è un campionato molto equilibrato tutte le squadre anche la prima può giocare con l'ultima e perdere o pareggiare quindi tutto è tutto abbastanza equilibrato infatti si vede perché tutti a pochi punti di distanza e stavo parlando anche oggi con giornalista diceva che è un bellissimo campionato anche da raccontare perché stiamo tutti lì e con questo concludo e buon proseguimento ciao a tutti purtroppo sabato abbiamo assistito ad una sconfitta della sd monte costo per 1 a 0 contro il calderola ma questa sconfitta è assolutamente meritata e condizionata da una direzione di gara a dir poco rivedibile e la partita inizia subito bene per i di casa infatti grazie al lancio di peggioli sant'agata entra all'interno dell'area di rigore e con un grandissimo destro al volo insacca le spalle del portiere del calderola ma l'arbitro decide di annullare il gol per fuori gioco e alla mezz'ora c'è il primo episodio di chiave della partita con il calcio di rigore assegnato al calderola per un fallo sospetto di quinta paa ai danni del numero 10 che trasforma il calcio di rigore e porta avanti al calderola da qui fino all'intervallo non ci sono eventi da segnalare ma nel secondo tempo la sd inizia subito arrembante e indecisa alla ricerca del pareggio ma circa alla metà del secondo tempo c'è il secondo gruppo di scena della partita ovvero il carcerino rosso per quinta paa che a mio avviso è inesistente infatti quinta paa parte palla al piede dalla difesa si trova davanti un giocatore del calderola che tenta di rubare il pallone lui intervenisce volate per riprenderselo e ci riesce ma il direttore di gara decide spiegabilmente di segnalare il fallo e di lasciare il montecosero in 10 uomini estraendo il cartellino rosso per quinta paa da qui inizia una partita molto molto fallosa molto irruenta tanto che ci saranno altri due cartellini rossi per il montecosero sia per il guardalinee che per mister perini ma nonostante nell'involuzione numerica la sd comunque sia riesce a fare la partita e a creare molto di più degli avversari tanto che va vicina più di una volta al gol del pareggio purtroppo senza riuscire a concretizzare le occasioni create verso il novantesimo comunque sia nelle battute finali della partita quando tutto il montecosero era alla ricerca del pareggio era tutto sbilanciato in avanti c'è stato un fallo da ultimo uomo da parte di mazzante che però era centrocampo e l'arbitro nonostante questo ha deciso di estrarre il cartellino rosso lasciando la sd in 9 e la partita finisce pochi istanti dopo per concludere bisogna comunque sia fare i complimenti ai ragazzi dell'est di montecosero perché nonostante l'inferiorità numerica e nonostante le decisioni arbitrali a sfavore non si sono disuniti hanno lottato fino alla fine hanno cercato in tutti i modi di pareggiare purtroppo alla fine il gol non è arrivato in classifica rimaniamo a 15 punti a meno 3 comunque sia dal Castelraimondo che occupa l'ultimo posto per i playoff rimaniamo comunque sia a più 6 sulla zona play out di conseguenza dobbiamo giocare il nostro campionato senza guardare per ora la classifica giocando come stiamo facendo fino adesso e comunque sia cercando in ogni partita di ottenere il massimo risultato alla luce di questi risultati della classifica nuovamente cambia e deve tornare in testa la vigor perdere un po' di terreno la sd come possono questi risultati e i prossimi match influire possono influire soprattutto nel caso dell'sd due partite non positive possono creare oltre dei problemi oppure secondo voi potrebbe essere un intoppo momentaneo e la vigor con questa vittoria potrebbe aver consolidato la forza dimostrata per la partita di sabato dell'sd si è arrivata una sconfitta sinceramente una sconfitta lascia perplessi sotto tanti punti di vista è vero che ci condanna una doppia a un doppio passo falso perché oltre alla sconfitta di sabato c'è stata anche la sconfitta precedente contro il tolentino però mentre contro col tolentino come dire ci poteva anche stare quella di sabato a mio avviso una sconfitta assolutamente meritata e dettata solo ed esclusivamente agli episodi perché la partita i ragazzi l'hanno fatta ci hanno messo il cuore l'intensità la voglia di portarla a casa mentre come è capitato spesso lo scorso anno e ahimè anche quest'anno il protagonista negativo è stato questo caso l'arbitro arbitraggio palesemente insufficiente vorrei dire quasi quasi scandaloso però poi magari rischiamo di creare degli alibi che in questo momento non è il momento di concedere però è chiaro che se in una partita non riesce a fischiare neanche una situazione a favore e le sbagli tutte sempre unidirezionalmente contro contro la squadra la sd qualche perplessità per non dire altro qualche pensiero strano iniziamo a farlo perché non è la prima volta perché lo abbiamo visto spessissimo anno scorso due anni fa e quando parti in una partita con un rigore dubbio un'espulsione inventata un'ulteriore espulsione quindi finisce la partita in nove e dall'altra ma non solo poi ci sono state tutta una serie di episodi non dico clamorosi clamorosi per la scelta perché erano talmente evidenti che falli laterali calci d'angolo punizioni invertite niente di eclatante ma che diciamo hanno lanciato un bel messaggio a tutti i giocatori in campo quindi adesso l'invito che facciamo ai ragazzi è quello di non mollare di crederci purtroppo dobbiamo mettere in conto anche queste questi passaggi a vuoto non tanto utili da da come dire dall'approccio mentale o dalla dal aspetto tecnico ma esclusivamente dall'aspetto ambientale esterno in questo caso arbitrale però non bisogna farsi demoralizzare i ragazzi devono combattarsi ci sono come dire tutte le prerogative per far bene perché c'è l'elemento essenziale che è il gioco che questa squadra ha un gioco ha una sua identità ha una sua struttura anche un bel carattere perché quando vai sotto e cerchi sempre di recuperarla nonostante l'inveriorità significa che ha anche molto molto carattere quindi facciamo in bocca al lupo ai ragazzi e speriamo che la prossima ci porti una vittoria allora la vigor continua la sua marcia trionfale con la vittoria buona prestazione della squadra e la sd monte cosaro con la sconfitta è stata un po rimaneggiata però credo che i ragazzi alla fine ci può stare perdere per 1 a 0 bisogna comunque sia insistere perché le basi ci sono diciamo che tutti tutte le partite in qualche modo possono dare conferma sulla salute delle squadre credo che la classifica che è nella categoria è sicuramente una classifica molto volubile nel senso che abbiamo visto squadre di coda mettere in difficoltà squadre di vertice e abbiamo visto appunto che la situazione cambia abbastanza rapidamente io ho visto la partita della sd fondamentalmente non è stata una una bella partita io ho visto il primo tempo è una buona parte del secondo è stata una brutta prestazione dei ragazzi non ho visto il gol che è stato annullato prima nel primo tempo alla sd poi successivamente un rigore che francamente si fa fatica a giudicare dalla tribuna e quindi non non potrei dire se corretto o meno però al di là degli episodi è stata una partita mal giocata condizionata tantissimo dal vento che ha reso veramente veramente difficile la circolazione della palla soprattutto quando la palla stessa era in aria per quello che riguarda invece la classifica è chiaro che Montegosla sd sicuramente sta andando comunque al di sopra delle aspettative invece la vigor che in quest'ultimo periodo sembra aver perso un po' di smalto credo che possa tranquillamente ambire a rimanere nella parte alta della classifica fino alla fine del campionato Lasciamo per un attimo da parte il calcio locale andiamo a parlare di Serie A perché l'ultimo fine settimana oltre al risultato positivo finalmente del Milan o meglio finalmente se pensiamo anche alla Champions in realtà anche la partita prima con la Fiorentina aveva vinto però ci sono due squadre che si sono distanziate anzi hanno continuato a tenere un buon ritmo ma prima ancora vorrei parlare del discorso che l'Inter rinnova Lautaro, la Juve Rabiot cosa vedete in questi rinnovi? Che messaggi vengono dati? e soprattutto se secondo voi queste due squadre andranno dritte verso una lotta a due o seppure Napoli e Milan possono ancora rientrare sull'Inter che rinnova Lautaro e la Juve che rinnova Rabiot diciamo che entrambi in qualche modo hanno rappresentato un po' il DNA e comunque i riferimenti forse anche storici di queste due franchice chiaro che dal mio punto di vista ero sempre sostenuto che Lautaro è credo sia un grossissimo giocatore forse un po' meno Rabiot però nelle ultime stagioni si è fatto comunque valere e forse merita anche questa considerazione francamente ha uno stipendio da top player e fino all'anno scorso onestamente non aveva mai dimostrato di essere un top player però è giusto che le società partano, ripartano comunque si fondino su figure che in qualche modo possono darle un'identità diciamo per il passare degli anni dire che il campionato sarà nel proseguio una lotta a due credo che sia prematuro è chiaro che i valori espressi e le possibilità delle rose fino ad oggi hanno dato questo tipo di classifica che credo sia una classifica abbastanza veritiera però quando mancano ancora una trentina di partite circa hanno comunque una venticinquina di partite da giocare credo che sia difficile poi dire che alla fine del campionato sicuramente saranno Inter e Juve le uniche squadre a poter raggiungere l'obiettivo sicuramente ci sarà la Juve questo più dell'Inter ma non per meriti ma semplicemente perché la Juventus sappiamo già che è senza impegni infrasettimanali l'Inter comunque ha una rosa per poter rimanere però è chiaro che quando nel corso della stagione si avvicinano le partite più importanti in Champions sicuramente si può perdere un po' di vista l'obiettivo campionato per quello che riguarda il Milan per esempio e anche il Napoli in questo caso sicuramente molto sarà determinato dal percorso che faranno in Champions come ho auspicato anche la settimana scorsa spero che se il Milan esca come a questo punto credo sia quasi impossibile che non avvenga che finisca quarto sarebbe la cosa migliore perché comunque a quel punto potremmo anche recuperare una rosa che abbiamo nel tempo diciamo dimostrato una rosa che ha dimostrato di non poter sostenere perlomeno in questa stagione i doppi impegni settimanali quindi concentrarsi su una partita alla settimana sicuramente agevola l'ultimo campionato vinto dal Milan credo ne sia la dimostrazione lampante Milan uscito dalla Champions ha vinto comunque alla fine ha vinto il campionato al di là di quello che si può dire sul fatto che l'Inter l'abbia buttato tutto quello che volete però uscire dalla Champions sicuramente dà più garanzie per quello che riguarda poi la possibilità di giocare in campionato con un'attenzione sicuramente più alta stesso discorso vale anche per il Napoli francamente credo che il Napoli in Champions se dovesse andare avanti molto probabilmente soffrirà forse forse più anche del sicuramente più dell'Inter perché mentre il Napoli non ha una rosa profondissima soprattutto nella parte nel reparto difensivo dove i giocatori sono non contati ma comunque con pochi ricambi poche rotazioni l'Inter in tutti i reparti sembra più più quadrata e più attrezzata dipenderà poi molto anche dagli infortuni perché comunque come stiamo già vedendo ci sono squadre che comunque soffrono queste situazioni ed è chiaro che giocare una volta la settimana anziché due potrebbe fare la differenza anche soprattutto in campionato sì due rinnovi molto importanti pedine fondamentali per le due squadre Rabiot ha rinnovato per un altro anno allo stesso stipendio fondamentale attualmente per il gioco di Allegri è fondamentale anche come uomo trascinatore della Juventus credo che attualmente Rabiot è uno dei giocatori più importanti di questo campionato di Serie A il rinnovo di Lautauro sarà un rinnovo molto molto differente rispetto a Rabiot perché sarà di più anni e è un punto fermo attualmente dell'Inter dunque due persone, due giocatori e due uomini veramente importanti per le rispettive squadre ma attualmente la classifica è ponderata secondo me vediamo due squadre molto più in salute al di là dei risultati il muso corto di Allegri che hanno di più rispetto alle altre però secondo me il campionato è ancora molto lungo e le squadre per poter vincere lo scudetto non solo Juve e Inter dunque secondo me la questione è sempre quella che è difficile adesso dire se ci sono solamente due squadre secondo me no entreranno come sempre il Milan e attenzione perché secondo me come squadra ritornerà sull'Atalanta però è un pronostico mio ecco beh se si va a estrapolare il gioco e vedere il risultato secondo me dell'Inter per 3-0 sul Napoli è un ampio successo ma manca secondo me il rigore fondamentale perché Osimène è stato atterrato in aria e sinceramente riguardando tutte le moviole possibili ho visto che c'era un calcio di rigore per la squadra del Napoli e dare un rigore quando una partita sta 0-0 poi secondo me il finale non era certo di 3-0 però la partita come sempre è stata gestita poi in scioltezza dall'Inter e il risultato mi è sembrato molto molto ovvio perché il Napoli alla fine cercava di fare quello che poteva mettendo dentro punte però il rigore c'era Buonasera a tutti e ciao Venanzio il mio contributo vuole essere concentrato sul rinnovo di Lautaro e di Rapio io ci leggo la volontà di proseguire questo progetto delle due squadre oggi diciamo più solide insomma della Serie A e perché poi mi ricollego anche all'aspetto della lotta a Scudetto perché a mio avviso la lotta a Scudetto con la Juventus completamente concentrata sul campionato e l'Inter ovviamente con una potenza di fuoco a dir poco di prima fascia rispetto a tutte le altre squadre e oltretutto con una struttura societaria veramente solida ha dimostrato negli anni comunque di stare sempre lì davanti e sono le due contendenti finali per lo Scudetto certo è ancora molto presto i Scudetti per menzionare qualcuno si vincono a primavera ma è vero che in fieno e in gascina si fa d'inverno e si mette d'inverno e quindi a mio avviso questi sono segnali di prospettiva per la società per le società con i rinnovi con le intenzioni di rinnovi e quindi ci vedo molte similitudini in questo piuttosto che differenze e che la lotta a Scudetto non è chiusa sicuramente però devo dire che le squadre che emergono sicuramente fino alla fine sono queste due le altre sono sicuramente un passo indietro e un piccolo discorso sul Milan è sempre quello che come avevo già accennato in qualche altra trasmissione secondo me quando ti trovi a cambiare tante persone nell'organico poi si rischia un po' di perdere quello che è la bussola dei risultati e la costanza dei risultati e quindi il lavoro diciamo da fare è superiore rispetto a quelle altre due società un saluto a tutti e come sempre un piacere ci vediamo alla prossima puntata ciao bene amici io vi ringrazio buonanotte come sempre Radio Montego Web la voce di tutti in maniera democratica e uguale per tutti vi auguro una buonanotte un buon fine di settimana a lungo ci aggiorniamo settimana prossima ciao ragazzi buonanotte buonanotte a tutti alla prossima ciao Venanzio buonanotte buonanotte a tutti gli ascoltatori buonanotte ragazzi buonanotte buonanotte a tutti buonanotte grazie buonanotte